ok partito perfetto ciao a tutti ciao 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 benvenuti bentrovati benvenuti e bentrovati oggi abbiamo questo bel velo grisastro che non ci dà soddisfazione a pieno esatto però però è un po c'è un'energia un po come dobbiamo dire così dolce pacata che quasi quasi viene da chiudere gli occhi è rilassante e rilassante dunque potrebbe darsi anche che ci addormentiamo in diretta in diretta sarebbe bellissimo ci mancherebbe solo che ci addormentiamo in diretta ma non stiamo scherzando oggi veramente c'è un'energia tranquilla non è frizzantina come quella di ieri dove c'era un sole cocente forte ecco e oggi è veramente più tranquilla piacevole dobbiamo dire e ci auguriamo che ci sia dovunque questa questa sfumatura senza i disastri senza i disastri non piove non ha piovuto è ecco però insomma è un momento di tregua di un bel respiro di una calma che è entrata anche vibrazionalmente nel cervello quindi a me spiace tanto questa condizione di questa energia perché appunto tranquillizza un poco gli animi infatti rispondiamo già alla prima domanda di Luisella ciao ciao a tutti a tutti gli amici e le amiche che ci seguono e Luisella ci chiede come stiamo e beh come stava dicendo Lidia stiamo bene in questo momento bisogna dire che vedere finalmente il cielo coperto dalle nuvole crea veramente la tranquillità nel cervello cioè abbiamo vissuto totalmente tanto sole talmente tanto calore che ora c'è bisogno anche di questa quieta esatto perché è un dono grande e non avere già avere questa piccola tregua magari domani ovviamente il sole c'è di nuovo ma è una tregua energeticamente è una tregua che va nella nostra rete cerebrale ad armonizzare questo come si dice questa pulsione che il sole che è questo astro solare meraviglioso che assolutamente dona la vita e non c'è una cosa di un ringraziamento totale per la vitalità e per tutto quello che è il senso dell'esistenza ma in un momento come questo è bello e poi esatto perché poi in lontananza c'è qualche parvenza di tuono quindi è proprio un ambiente bellino romantico e ci sembra anche adatto al nostro titolo di oggi l'armonia del cuore della mente si armonizzano si parlano ma senti che bella energia che bella armonia e si rispondono sono sereni vediamo finalmente trovano il punto di incontro finalmente anche come fanno il cuore la mente a trovare il punto di incontro questa è una bellissima domanda che ci ponete in tanti perché effettivamente il cuore la mente non hanno grandi punti in comune e nemmeno tanti punti di incontro e trovarli è veramente cosa rara ma non impossibile quindi vi possiamo garantire che con un minimo di sforzo perché così è sempre e sarà sempre cioè non ci viene regalato nulla a nessuno tutto quello che dobbiamo imparare a fare lo dobbiamo conquistare con le nostre forze con la nostra volontà con la nostra fede con la nostra voglia di crescere con la nostra voglia anche di cambiare di trasformarci meglio dire e di trovare finalmente l'armonia tra il cuore la mente sono due da una parte nel corpo umano sono due organi estremamente vitali ed essenziali senza i quali il corpo umano non viverebbe dall'altro canto da quello spirituale sono due perni molto importanti per la nostra anima per la nostra esistenza oltre la vita oltre la condensazione materica perché sono i nostri due punti di aggancio con quello che è poi il cordone argente il cordone che ci collega dalla terra al cielo e dal cielo alla terra attraverso il quale comunichiamo quotidianamente istantaneamente anche quando non pensiamo di farlo con la nostra parte spirituale riuscire a mettere armonia nel cuore e nella mente fisici cioè in che senso perché fisicamente come facciamo andare ad operare sul cuore e sulla mente possiamo andare solamente o con lo yoga o con la meditazione o con la respirazione o con le medicine o con qualsiasi altra cosa che venga esattamente da una volontà di voler veramente mettere pace e armonia in questi due organi ma andare a creare l'armonia dal punto di vista spirituale non è la stessa cosa perché prevede il fatto che crediamo nello spirituale che crediamo nell'anima che crediamo che questa vita non sia l'unica esistenza alla quale siamo soggetti sottoposti e viventi nella nostra forma materica ma che c'è dell'altro che va oltre la nostra vita e questo è il punto di congiunzione tra il cuore e la mente dal punto di vista spirituale no Lidia? Certamente sì e quindi non è cosa da poco perché ognuno di noi ha sempre a che fare una a che fare si intende uno stretto rapporto con il cuore e con la mente noi è un connubio è un qualcosa indivisibile che non possiamo in alcuna maniera distaccare da noi dal nostro essere dal nostro pensiero da tutto quello che comporta il nostro sistema di vita giornaliero non possiamo in nessun modo distaccare o sganciare un attimo queste due versioni queste due postazioni del cuore e la mente sono due due colonne due principi attivi sono due condizioni dove tutto di noi è nelle loro mani ogni cosa è gestita decisa valutata valutata ponderata donata alla vita da queste due condizioni il cuore il cuore è quella parte di noi che gli diamo tutto di noi lo vesteggiamo lo rimbocchiamo le coperte al cuore tutti i giorni perché come si dice per noi il cuore è sempre in difetto in perdenza perde continuamente ha bisogno di essere perde quota bisogno di essere consulato ha bisogno di essere sempre ferito sempre sanguinante il cuore veramente è sempre lacerato di tutto ecco e chi è che lo lacera il cuore è con chi ha a che fare della parte materiale umana con chi deve discutere tutto il giorno fisso e anche di notte perché comunque ci sono i sogni ci sono i nervosismi c'è stata una giornata particolare quindi vado a letto con tanti pensieri con tante emozioni con tante situazioni che poi me ne trasporto mentre dovrei invece dormire sono sereno e riposarmi perché domani mi aspetta di nuovo una giornata ecco e il cuore invece è sempre lì che si lamenta oddio non mi sento bene fammi una camonilla e consolami un po' e fammi un massaggino cioè il cuore sempre è come io dico io che nella mia espressione è sempre giù al posso mi mancano sempre vanta un sacco di pretese vanta belle pretese però è anche un po' vero un po' giusto ma è anche un po' non giusto e non vero perché il cuore ha una messaggero ecco che non dovrebbe lasciare in disparte e non è la mente il suo messaggero perché la mente deve essere sempre molto valutata dal cuore deve essere veramente analizzata al cento per cento ma il cuore ha una grande alleato un messaggero che è proprio la divinità per il cuore rivelato cioè è una divinità rivelata ed è il pensiero il pensiero è un grande messaggero ti aiuta a comprendere ti aiuta a farti vedere più chiaro il messaggio aiuta a fare vedere più chiaro la condizione della situazione aiuta a farti rappresentanza di quello che sta accadendo all'interno del vivere rivela cose che la mente non ci penserebbe mai mai di fartele vedere perché la mente non ha tanti interessi di fare rivelare al cuore il messaggero cioè il pensiero quindi diciamo che il pensiero si deve intrufolare da solo nei cofrutti del cuore ma il cuore però gli deve dare lo spazio perché gli deve dare lo spazio perché il cuore conosce e sa riconoscere il pensiero il cuore non ha segreti per nessuno e niente del corpo umano ha segreti per il cuore quindi il cuore è collegato a tutto ma non tanto il cuore materiale quello del muscolo quello che fa parte di un altro e concetto della vita ma il cuore quello che praticamente vive vibra con noi tutti i giorni nella parte di quello che sono le vibrazioni quelle cose che le emozioni quelle quelle sensazioni ecco quella parte lì il cuore deve essere molto attento al messaggio che proviene dal pensiero perché il pensiero ti racconta tante tante cose mi viene da farti una domanda facevo una riflessione pensando a tempi addietro no a quando ancora ci si poteva vedere di più con le persone c'era più scambio c'era più condivisione e in base anche alla tua esperienza con le tante gente che hai sempre incontrato nella vita cosa hai trovato più dolorante nelle persone il cuore o la mente il cuore il cuore soffre tanto il cuore è come si dice è sempre diviso in due in dieci in mille pezzi in mille pezzi il cuore veramente ha la necessità di essere sempre acudito cioè veramente non è un modo di dire il cuore ha veramente questa necessità la mente la mente no la mente la mente no non ha bisogno la mente non gli serve nulla la mente la mente deve solo imparare a meditare deve imparare a ragionare deve imparare a fermarsi deve imparare a valutare deve imparare a vedere deve imparare che nulla gli è dovuto come invece pensa la mente deve imparare la mente deve imparare ed è obbligata lungo la vita a farlo a fare che cosa a fermarsi spesso guardarsi intorno valutare il proprio cammino e cercare di mandare un messaggio a tutto quello che è lo staff del cervello di tutti i sentimenti del cuore eccetera pensieri tutto quello che è di fermarsi e di riflettere perché altrimenti la mente non è propriamente in grado di come si dice di creare la vita che fa la differenza non è in grado la mente di fare la vita che fa la differenza ovviamente non stiamo parlando dell'intellettualità non stiamo parlando dell'intelligenza dell'istruzione non stiamo parlando di quel campo stiamo parlando solo della mente della pazienza della comprensione dell'amore del perdono di tutte quelle cose che creano la qualità e la differenza della vita perché è quella che fa risanare un cuore che fa risanare un equilibrio che lo fa essere al centro della propria vita diciamo che in una civiltà in un mondo come quello di oggi dove siamo molto mentali dove siamo molto concentrati su noi stessi a livello del pensiero a livello dell'appunto del avere tutto e tutti sotto controllo sembrerebbe strano che il cuore soffra di più della mente quando la mente è sottoposta veramente a una energia a una pesantezza a una concentrazione molto forte in realtà possiamo dire che il cuore soffre di conseguenza questo o è la sofferenza del cuore che ci ha reso molto più mentali per non sentire il cuore abbiamo spostato tutta la nostra attenzione qua esatto diciamo che ognuno di noi nella vita di tutti i giorni crea una sorta di condizione di stress no? è una condizione di stress mentale, fisico, del pensiero, del cuore cioè è un sistema di ragionamento, di condizione di ragionamento che non ci lascia libero nemmeno un nanosecondo non ci sono attimi di libertà, di ozio mentale oppure del cuore non ci sono, siamo sempre sottoposti a un qualcosa di forte di impegnativo più che forte perché forte diventa magari perché noi non siamo in grado di fermare un attimo la mente degli ascolta lasciami un attimo, libera, stai zittina un po', ecco non riusciamo a fare questo quindi questo ci porta ad avere quello stress, quella stanchezza mentale che poi ci confonde, ci appesantisce e di fatto chi è che ne soffre? la mente? no! è il cuore il cuore soffre, soffre tanto perché il cuore tutti in anni e secondi si sente appesantito, ferito non sa dove guardare, non sa dove prendere un cerottino, un balsamo, un sorriso cioè il cuore, è il cuore che non sa trovare un momento di quella pace che magari la mente ve lo racconta anche dice guarda se fai così ti puoi trovare nella pace, nella serenità perché però non ti dà la chiave la mente e quindi ti dice poi ti arrangi adesso io ti ho dato delle coordinate e tu ti arrangi ma il cuore non sa trovare se stesso all'interno della mente perché la mente è una macchinetta, è una condizione abbastanza fredda perché è logica, è razionale quindi insomma inquadra tutto inquadra tutto e lascia poco spazio ai sentimenti, alle pulsioni esatto perché poi adesso che va tutto veloce tutto il tempo non c'è più tempo non c'è più tempo per nulla nemmeno per i sentimenti esatto e quindi dice la mente vai veloce, sbrigati perché è tardi c'è da fare c'è da fare e quindi il cuore rimane schiacciato da tutto questo un pochino rimane schiacciato e un po' indifeso esatto esatto quindi quando si parla di amore quando si parla della condizione dell'amore della ricerca di questi sentimenti che non è solo la passione ma è un ritrovare finalmente quell'interspazio tra un evento e l'altro tra una situazione e l'altra dove posso ascoltare la vibrazione del mio cuore è sempre di più un qualcosa di raro e di estremamente anche importante ma difficile da trovare appunto in un modo di vivere così dove tutto viene esaltato alla massima potenza dove tutto viene spinto alla massima velocità e questo lo sappiamo tutti non c'è bisogno che ve lo diciamo né io né Lidia ma prenderne atto è molto molto differente dal fatto che io so questa cosa e quindi capisco che il problema sono io è la velocità è il sistema è la vita è il lavoro è la famiglia ok ma noi dobbiamo prendere atto di questo perché non dobbiamo colpevolizzare nessuno nella famiglia nella coppia nel sistema nel lavoro nella società non ci sono colpe c'è che ognuno di noi ha perso quella parte di umanità che ci rende parte di noi stessi della realtà della nostra esistenza è lì che non troviamo l'armonia è lì che come diceva Lidia la mente e il cuore non si incontrano non trovano il punto focale dove mettersi d'accordo su quando è il momento di essere mentali perché serve perché serve alla vita di tutti i giorni ma serve anche il momento di essere cuore di essere amore di essere quel sentimento che non confondiamolo sempre con la coppia no Lidia certo assolutamente no l'amore abbraccia tutte e tutti l'amore è per una donna è per un uomo è per un bambino è per un anziano è per un albero è per un animale è per qualsiasi cosa l'amore non ha confini la passione quella carnale quella di coppia è un'altra cosa ancora quello di cui parliamo noi è l'amore quello che non ha un diciamo per forza una persona o un essere un'entità su cui focalizzare tutto quanto di noi stessi bensì è la possibilità di essere a 360 gradi immersi nell'amore che ci circonda e riuscire a captarlo da tutte le direzioni questo ci rende più umani e non vuol dire meno mentali non vuol dire meno dentro un sistema che ci richiede appunto la velocità la presenza l'intelligenza e a volte anche la freddezza per affrontare certi tipi di dinamiche perché no perché anche quella aiuta ma non deve essere uno stato continuativo dell'essere come quando diceva sempre prima Lidia la notte è fatta per dormire noi abbiamo degli schemi da rispettare noi abbiamo delle strutture fisiche ed energetiche da rispettare quelle energetiche le conosciamo per sentito dire o pensiamo di saperle e di conoscerle e quindi di saperle gestire come gestiamo il nostro corpo cioè mi lavo mi faccio la doccia mi lavo i denti mi taglio i capelli mi trucco cioè non sappiamo gestire energeticamente la nostra esistenza così facilmente come prendiamo ci prendiamo cura del nostro corpo quindi impariamo ad andare a vedere oltre alla nostra fisicità e lì troveremo la possibilità di creare quell'armonia di cui tanto abbiamo bisogno perché è inutile che ci nascondiamo dietro un filo d'erba abbiamo bisogno tutti come dicevamo all'inizio di respirare abbiamo bisogno tutti di fare veramente un punto dentro con noi stessi almeno una volta ogni tanto una volta al giorno la possibilità di decomprimere questa grande compressione mentale che abbiamo e lasciare un pochettino respirare tutto di noi stessi non un solo punto non un solo organo ma tutto il nostro essere sì diciamo che abbiamo proprio bisogno ma una cosa meramente forte abbiamo bisogno di lasciare lo spazio a un cuore semplice a un pensiero semplice a una mente semplice a qualcosa di semplice noi non conosciamo la semplicità non sappiamo cos'è anzi è una cosa abbastanza vergognosa essere semplice sembra che magari sminuiamo la nostra persona oppure non diamo il valore sufficiente a un qualche cosa ma non è così perché il cuore semplice è la ricchetta del vivere è la ricchezza di qualsiasi cosa non c'è che ricchezza più grande di un cuore semplice di una mente semplice cioè non so come dire questa cosa ma non va più di moda un cuore semplice deve essere sofisticato deve essere sempre elaborato e anche la mente deve essere sempre elaborata parole grosse situazioni molto imponenti importanti perché altrimenti non siamo al centro di un qualcosa la vita è al centro di tutto il cuore è al centro di tutto e la mente il pensiero e tutto è al centro di tutto la salute è al centro di tutto ogni cosa è al centro di tutto però non vogliamo considerare questa cosa però la cosa più importante l'organo più importante dell'essere umano è il cuore il cuore è semplice batte semplicemente nel nostro petto e lo fa talmente in spontaneità che che se per mille motivi di ragioni è un attimo stanco più del dovuto eccetera mette a rischio in un nanosecondo tutto 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 scompare tutto si fa silenzio tutto diventa il nulla panico paura distruzione quindi quindi amare il nostro cuore rispettarlo e onorarlo per la sua semplicità perché il cuore non è complicato si rende complicato attraverso tutto quello che abbiamo detto adesso quindi proviamo a comprendere un po' in larga scala questo cuore che necessita e trasmette l'armonia della vita il cuore che la trasmette perché il cuore non ha bisogno di lezioni della vita il cuore lo sa già la mente si è la mente che deve essere educata addestrata addestrata supportata compresa quietata quietata eccetera eccetera perché la mente che va fuori dai l'adrenalina va un po' fuori fase il cuore invece no il cuore lì che piange dalla sera la mattina la mattina la sera perché noi quando ci lamentiamo dove ci lamentiamo nella mente no ci lamentiamo nel cuore il mio cuore piange io sono triste mi piacerebbe una carezza mi piacerebbe un abbraccio mi piacerebbe che qualcuno mi dia un sorriso mi piacerebbe che qualcuno mi dica brava oh bravo e tanto altro e chi è? la mente? no è il cuore che ha questa necessità a tutte le età non ci sono le età diverse per accettare e per desiderare questo questo è ogni nanosecondo è sempre è sempre e poi solo un piccolo momento spendiamo per questo ragionamento e la mente non è più il tempo che abbia questo comportamento la mente non deve continuare ad avere questo comportamento perché la mente deve questo è uno degli ultimi massaggi che hai ricevuto sì dal grande maestro proprio in questi giorni perché la mente è troppo padrone ha troppa è troppo come si dice è una è un gestore un gestore di cui tante sono le cose che gli sono sfuggite di mano e quindi è ora che la mente rientri nei propri ranghi perché praticamente il cuore non può più farne le spese di tutto la giovane età tutto quello che è la vita la debolezza della vita non può fare le spese perché se noi dice il maestro se voi non imparate ad educare la vostra mente la vostra mente non può comprendere non può comprendere che sta creando per se stessa e per la vita una condizione di distacco molto forte troppo forte e sta seminando troppo troppo dolore quindi questo è un messaggio che magari qualche giorno e poi lo metteremo su facebook e poi ve lo facciamo leggere perché è giusto che leggiate come noi questi messaggi medianici quello che ci arriva quello che ci arriva perché è giusto pensiamo che sia ora ma non pensiamo noi che sia ora il maestro dice è ora che la mia parola vada anche nel livello medianico su quello che sono le linee della comunicazione abbiamo diverse domande è poco tempo quindi vado subito a leggerle la prima è di Giovi Giovi ciao che ci chiede come si può trovare l'armonia di cuore e mente come si può trovare l'armonia di cuore e mente l'armonia di cuore e mente c'è solamente come dicevo prima dicevamo prima c'è questo messaggio questo messaggero ecco che è il pensiero il pensiero manda tanti messaggi parla di tante cose è solamente che noi magari chissà se abbiamo facciamo attenzione abbastanza no? a quello che ci arriva a quello che è a quello che vediamo perché è un bravo a volte basta guardare e magari dobbiamo elaborare quello che vediamo con gli occhi o sentiamo con le orecchie perché i messaggi il messaggero è dovunque esatto non c'è un messaggio non c'è un solo messaggero e non c'è un solo punto e non siamo solo noi detentori di un messaggio ma ognuno di noi è portatore di un messaggio o ha la capacità di leggere i messaggi ovunque è chiaro che nel dominio della mente i messaggi non passano in questo momento in questa era in questa epoca in questa fine dei tempi del vecchio ciclo e inizio del nuovo ciclo ovviamente il dominio è della mente e quindi qualsiasi cosa che normalmente sarebbe passata al baglio dei nostri sensi avremmo potuto captare tantissimi messaggi fino a qualche decennio fa ora tutto questo si è reso veramente complicatissimo difficilissimo e lontano da noi non permettiamo questo non permettiamo questo in primis alla nostra mente non diamogli il dominio non diamogli la possibilità di prevaricare noi stessi e gli altri perché credeteci e se non credete a noi credete a quello che volete a quello che vedete a quello che incontrate per la strada ma non c'è più spazio per il cuore e questo non è bene in una civiltà in un mondo come il nostro non è bene non porterà a copiosi frutti a copiosi raccolti ma ci uso la parola pentiremo molto così capiamo meglio di non aver ascoltato il cuore quando avremmo dovuto non è mai tardi quindi non è che uno dice allora adesso siamo finiti non c'è più la possibilità ciao cosa stiamo ad ascoltare voi cosa stiamo a fare tantissime altre cose per migliorare la vita che se non serve a niente no serve tutto e tutto serve a tutti e comunque dobbiamo sempre impegnarci e stare sul pezzo andare avanti ma stare lì martellare il ferro finché è caldo e quando si raffredda riscaldarlo perché non possiamo perdere nemmeno un istante di questa vita quello che non capiamo non riusciamo a capire è che questa vita è fondamentale dal punto della vista della crescita spirituale e ovviamente anche evolutiva umana perché è la conseguenza ma non perdiamo mai l'orizzonte di questa importanza della vita perché veramente ne va della nostra salute e delle persone care se diciamo di amare le persone accanto a noi dobbiamo anche dimostrarlo esatto Carla ciao la mente lavora troppo come come può incontrare il cuore eh sì la mente lavora veramente troppo e non è che non incontra il cuore lo incontra sempre perché il cuore è sempre a portata di mano ma di più delle volte non lo riconosce non lo riconosce perché il linguaggio è differente la mente ha un linguaggio che è veramente lontano dal cuore perché in questo tempo in questo veramente in questo tempo il cuore sembra che è forte e coraggioso ma il cuore non è molto forte e coraggioso il cuore è sottoposto da se stesso perché è timoroso è un po' timoroso il cuore quindi non ha tutto questo coraggio perché sapete perché gli manca il coraggio al nostro cuore non perché non è più capace e non è bravo ma gli manca la fede gli manca una grande conoscenza che prima in tempo noi avevamo la fede il nostro cuore conosceva la fede e quindi il cuore era forte nella vibrazione energetica della nostra fede e allora contrastava anche la mente e la mente molte volte perdeva di quota non aveva questo questo potere sul cuore invece in questo tempo il cuore rimane un po' più debole perché la mente lo sorpassa perché la mente praticamente è come se gli raccontasse ma cosa vuoi dalla vita ma vado ad andare avanti vedi devi fare questo devi fare quello e quindi la mente non gli lascia lo spazio al cuore per ritrovare se stesso nella condizione della della fede dell'amore il cuore non riesce a comprendere a sentire quella vibrazione che dovrebbe dargli il pensiero quella vibrazione che dovrebbe dargli invece anche l'anima l'anima dovrebbe dargli quelle coordinate che però magari non gliele dà bene perché la mente è molto forte e quindi c'è una grande diatriba dentro di noi a livello energetico ogni ogni giorno Liviana ciao ciao la mente e il cuore trovano la possibilità di fare amicizia bella domanda l'amicizia che bella cosa l'amicizia che bella parola è una cosa bellissima ma a volte è molto difficile perché il cuore e la mente non conoscono la parola amicizia perché il cuore confonde la parola amicizia della vita di tutti i giorni perché il cuore umano è gestito dai sentimenti dal mondo dei sentimenti da tutti quei mondi dove ognuno di noi dice io ho il diritto su quella cosa tu non hai diritto su quest'altra e quindi discutiamo litighiamo per questo per quello e per quell'altro quindi tutta questa diatriba il cuore non ha questa intenzione di vedere l'amicizia in questa cosa qui mentre invece se avesse insieme al cuore del mondo dei sentimenti avesse qualche vibrazione un po' sparsa qua in là della vibrazione del cuore spirituale della fede ecco che allora il cuore anche umano anche quello della vita anche quello dei sentimenti l'organo che viaggia con i sentimenti perché sono le pulsioni le emozioni eccetera ecco che riuscirebbe ad avere qualche rallentamento e entrerebbe un po' di più qualche vibrazione energetica e magari dell'amicizia ecco se la possiamo chiamare così ci dimentichiamo che è il primo organo che si forma all'interno dell'embrione perché perché è il primo a risuonare dell'armonia cosmica universale esatto il battito cosmico entra nella vita attraverso il battito del cuore quindi esatto come si suol dire nasce prima il cuore il cervello nasce il primo il cuore quindi è l'unico che sa qual è il linguaggio celeste non è la mente non è il cervello a conoscere il linguaggio celeste la mente il pensiero elabora queste vibrazioni elabora questi linguaggi li trasforma in quello che poi sono le nostre espressioni la nostra comunicazione la nostra fede la nostra condivisione ma senza il battito originale senza la vibrazione originale noi non potremmo nemmeno esistere è qui che scivoliamo sulle bucce di banana in continuazione pensando che è solo un cuore e che solo un sentimento e che solo questo battere si rende sofferenti perché viene ferito continuamente dagli altri dalle mancanze dalle violenze da tutto quello che attribuiamo comunque a una sofferenza del nostro cuore in realtà il nostro cuore non soffre così tanto come noi pensiamo perché è la forza predominante della nostra vita è il primo ad iniziare è l'ultimo a finire nel grande ciclo della vita è la forza della natura è la forza dell'energia pura certo Elide ciao ciao dov'è situato il nostro cuore spirituale il nostro cuore spirituale è situato praticamente più o meno all'altezza del nostro cuore materiale ma è spostato sulla nostra destra ed è in concomitanza in linea con come si dice con la lancia che è stata conficata nel petto a Gesù durante la croce sulla croce quello è il punto dove noi ognuno di noi abbiamo la vibrazione del cuore spirituale che cos'è il cuore spirituale è l'essenza l'essenza dell'origine l'essenza della 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 scintilla divina della vita dove praticamente l'anima da quel punto lì virtualmente energeticamente inizia a dare corposità vita alla sua creazione terrestre no cioè inizia da lì dal cuore spirituale insieme al cuore materiale che è lo scoccare della della scintilla del fuoco sacro ecco queste due espressioni di energia corale no di questo cuore ecco creano e danno vita alla creazione di un corpo umano Luisella ciao ciao per attivare l'amore per sé e per gli altri sento parlare di pulizia energetica cosa significa allora sì si possono pulire le cose ovviamente come tutte le cose della materia hanno la necessità di essere lavate e mandate e di essere anche purificate ognuno di noi come il nostro corpo come ogni cosa abbiamo i capelli cioè ogni cosa deve per noi essere lavato ecco ma la pulizia quella vera quella pulizia dove deve rinnovare ogni giorno mettiamola dai una volta al giorno se no magari troppo impegnativo però un giorno sì un giorno no dai così non ci affatichiamo però tutto di noi deve essere rinnovato e purificato che cosa significa lavare e purificare forse è la nostra dimora quale dimora abbiamo parlato l'altro giorno per un attimo apprendo è la dimora di mattoni no ok la aggiustiamo la mettiamo le diamo il profumo incensivo e tutto quello che gli necessita per dare una pervenza una cosa bella un'energia pulita eccetera ed è la dimora di mattoni ma abbiamo la nostra dimora la nostra io Lidia sono la mia dimora sono io che la devo tenere come un orologio la devo tenere immacolata la devo tenere nella sua sacralità io ho questa responsabilità come faccio siamo in una cosa semplice la semplicità pensieri puliti gesti gesti parole desideri e tutto quello che è il bello la calma la bellezza di tutto quello che è la vita di tutti i giorni non c'è bisogno che io e non devo essere tutti i giorni agguerrita tutti i giorni messa lì in veira in veira messa davanti situazioni per mio orgoglio eccetera eccetera è perché qui è perché lì è perché no sono io che mi devo educare sono io che devo diventare la mia quiete io non posso andare a prendere ingredienti da altri in altro luogo perché altrimenti non ho la totale totalità di contatto con me stessa per essere io stessa la pulizia della mia sacralità io sono sacra perché sono provengo dal cielo anche perché oggi ci sono molte persone che fanno le pulizie energetiche sia delle case che dei posti di lavoro dei luoghi di incontro così queste pulizie che sono fondamentali sono importanti è come se noi chiamassimo la rapida in casa da noi si dice la rapida perché quando arrivano veramente ti smontano la casa te la rimontano e te puoi mangiare per terra per come hanno pulito quindi immaginiamo qualcosa di radicale anche le pulizie energetiche vengono fatte in questo sistema dal punto di vista energetico sono radicali cioè la casa la nostra dimora viene ripulita dalle pesanteste dalle energie negative e quant'altro ma ricordiamoci che poi dentro quella casa ci ritorniamo noi con i nostri carichi con le nostre mondezine con i nostri sacchettini i nostri scheletri che non volevamo che nessuno buttasse via ecco quindi pensiamo bene a quello che intendiamo fare quando parliamo di pulizia perché la prima grande pulizia da fare è su noi stessi poi anche la casa necessita perché no anzi sarebbe buon abitudine buon uso farlo perché comunque di roba ne raccogliamo tante in giro e non ce ne rendiamo conto e non è che possiamo stare sempre lì a pensare o a dire non vado in quel posto non incontro quelle persone non faccio vedere gente da me perché non voglio che la casa mi si sporchi non possiamo vivere così nella paranoia quindi consideriamo il fatto che comunque qualcosa portiamo sempre a casa e sarebbe buona norma ripulirla ma noi siamo i primi ad avere quello che in quella casa non dovrebbe mai entrare partiamo da sto presupposto no Lidia Loredana ciao cosa dobbiamo comprendere quando non c'è armonia fra cuore e mente cosa dobbiamo comprendere ma non è che c'è da comprendere perché forse non riusciamo a comprendere è uno stato d'essere e magari sentiamo dentro di noi che c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che magari ci rende pesanti irrequieti c'è qualcosa che non funziona e quindi magari siamo lontani da una da un pensiero per dire di armonia il cuore poi non batte bene il cuore non non dà quel senso di tranquillità quindi bisognerebbe fermarsi un momento e guardare chiedersi chiedersi ma non alla mente perché la mente quando noi ci accorgiamo di avere un nervosismo nel cuore la mente ha già fatto il suo danno perché praticamente la mente ha già messo un seme che magari adesso ci vuole un pochettino di tempo per chiedergli di uscire per chiedere di andarsene perché quel seme porta magari un po' poi la disarmonia che magari se riusciamo a metterlo fuori subito dalla mente magari riusciamo anche risparmiare la disarmonia che magari si creerebbe nel cuore e poi magari siamo anche pentiti quindi cerchiamo di conoscerci meglio meglio perché il tutto significa che è facilissimo se lo vogliamo di conoscerci meglio perché ognuno di noi ha questi sensori ognuno di noi ha queste avvisaglie ognuno di noi sa che sta per arrivare qualcosa perché ad esempio potrebbe essere e qui lo diciamo e poi magari lo chiudiamo perché è tardi magari non sono i nostri pensieri magari sono pensieri di qualcun altro che noi abbiamo raccolto e quindi la nostra mente approfitta dalla situazione per dire per fare magari per dare un input dove magari raggiunge il cuore velocemente e magari c'è una disarmonia tra queste due condizioni cuore e mente però se noi ci conosciamo un po' di più magari certe cose non accadono e se accadono di un'intensità meno pesante Marisa ciao come si fa percorrere l'armonia del cuore? come si fa percorrere l'armonia del cuore? così l'armonia del cuore il cuore bisognerebbe appunto conoscerlo come come qualsiasi altra parte lo conosciamo lo conosciamo e per conoscere logicamente il cuore va meditato meditato interrogato del tipo ma oggi cos'hai che ti sento nervoso cosa ti è successo? hai dormito malamente un amico non ti è venuto a trovare hai ricevuto qualche brutta notizia e magari il cuore semplicemente dirà mi aspettavo un gesto d'amore non l'ho ricevuto va bene ne parliamo non c'è bisogno che la fai così tragica la faccenda vediamo di poter rimediare perché dobbiamo imparare ad avere questa confidenza con noi con il nostro cuore come se fosse un amico che è appena entrato e si trova in difficoltà perché tanto il cuore è l'unica parte umana che ci fa soffrire non c'è altro solo il cuore ci fa soffrire Serena ciao ciao cosa intendi Lidia con cuore semplice un cuore semplice cosa intendo il cuore non è mai complicato non gli serve niente non gli serve un vestito non gli serve il danaro non gli serve non gli serve niente perché il cuore vive è nella pace vive nella vibrazione dell'amore perché come diceva Hermes il cuore è nato dall'amore è stato generato dall'amore quello umano quello del 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 muscolo per non parlare quello spirituale ma meglio parlare per adesso di quello umano quello del muscolo quello dolorante quello dolorante quello è nato nell'amore puro nell'amore cosmico è quello che ha fatto la prima volta l'eco pom 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 così quello è la vita lo schiocco noi abbiamo quello dentro di noi e che gli serve al cuore che gli serve una cosa complicata di che cosa lui non è complicato non è complicato lui batte comunque il suo tempo e dell'universo ed è il battito cosmico esatto quindi il cuore semplice proviamo imparare ad essere un cuore semplice ed essere felici di essere un cuore a cui non serve nulla pur usando tutto giustamente certo Blue Jay ciao c'è nel breve periodo ancora la possibilità di riaccendere il cuore negli esseri umani o non si può fare più niente beh adesso non si può dire così è molto tragico e deludente però abbiamo perso tanto tempo perso tanto tempo perché abbiamo pensato che il cuore facesse da solo essendo un muscolo essendo cosa so già sappiamo il maestro non dice così comunque il maestro dice che il cuore umano deve essere accudito deve essere accarezzato deve essere amato e rispettato e deve essere considerato come è il suo posto come è la sua reale postazione nella vita e poi non ha mai detto che non c'è mai stato niente da fare o non c'è nulla da fare siamo sempre in lizza con la vita siamo sempre in continuo in controscontro con la nostra esistenza ed è giusto che sia così abbiamo sempre la possibilità di migliorare perché no cosa vuol dire siamo qui per evolvere per crescere quindi se tutto questo improvvisamente finisse ma a chi serve che tutto questo realmente finisce non serve nessuno non serve né i potenti della terra ma nemmeno ognuno di noi nelle nostre singole vite bello o brutte che siano grandi o basse o ricche o povere che siano non serve che tutto questo per noi finisca perché per noi questo è il banco di prova della nostra esistenza della nostra vita del nostro battito cosmico che può risuonare nel battito umano quindi non buttiamoci giù di fronte all'evidente schiacciamento generale delle situazioni vuoi le pandemie vuoi le guerre vuoi tutto quello l'uomo sarà sempre in conflitto con se stesso e con gli altri perché sono i giochi della materia ma siamo noi che non dobbiamo permettere a quei giochi di entrare a rabuire i nostri cuori e le nostre menti perché? perché non serve prima di tutto secondo non è questo il motore della crescita non è lo spegnimento del coraggio della forza della fratellanza dell'amicizia del supporto che deve venire a meno non sono questi i valori che dobbiamo perdere dobbiamo perdere quelli che sono i sensi di occultamento della mente del cuore dobbiamo perdere questo senso di appartenenza esasperata alla vita la vita la dobbiamo utilizzare per lo scopo dell'esistenza non per vivere e basta non serve a niente nessuno vivere e basta dobbiamo crescere e per poterlo fare abbiamo questi doni abbiamo queste capacità tiriamoli fuori se non siamo in grado di tirarli fuori chiediamo aiuto esatto al nostro vicino al nostro amore a nostra moglie al nostro marito al nostro amante a chiunque esso sia chiediamo aiuto impariamo a essere umili di chiedere aiuto nella vita perché da soli non andiamo da nessuna parte non ce la facciamo non ce la possiamo questo è vero questo non è vero invece cosa che sta accadendo sempre di più è che ci chiudiamo in noi stessi pensando che lasciando la gente così diciamo la gente che è una brutta parola come se fosse qualcosa di distante distaccato da noi si tratta di persone comunque fuori da noi fuori dalle nostre dimore ma soprattutto fuori dalle nostre vite noi abbiamo risolto tutti i nostri problemi non è così non è così e ci accorgeremo che non sarà così per noi non è così poi dopo vedremo non è così bene siamo arrivati in conclusione e direi di concludere con due bellissimi regali davvero che belli che bravini che ci sono che ci sono sempre questi bellissimi regali a fine diretta e te li leggo li abbiamo pagati vero? ovvio come sempre come sempre così certo bravi continuate bravi il problema è quando finiamo i soldi è vero vediamo se hanno il buon cuore di farlo lo stesso eh già scherziamo grazie grazie infinito davvero inizio con Laura che salutiamo tanto ciao e che dice pochi mesi fa ho avuto la fortuna di conoscere bellissime anime prima virtuali e poi con alcune ci siamo abbracciati nella realtà il mio cuore ballava dall'emozione sono tornata a casa ricca e l'amicizia mi ha aiutata a capire che la vita è bella bellissimo non lasciarla mai andare questa vibrazione bellissima non lasciarla andare coltivala tutti i giorni e poi abbiamo Alessandro che salutiamo tantissimo ciao e che ci scrive ciao fratelli miei vi abbraccio e vi mando un sorriso di gioia io mi sono convinto che grazie alle persone di un certo livello se la civiltà umana ha potuto continuare ad esistere senza essere già estinta per guerre e massacri quelle persone sono quelle che come voi si spendono da sempre per portare avanti un messaggio di amore bontà spiritualità e convivenza pacifica con i nostri simili e con la natura che ci circonda grazie ad esseri umani come voi l'esistenza terrena ha un senso e va portata avanti nel migliore dei modi che dire grazie 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 infinite alessandro sempre dei tuoi pensieri bellissimi e profondi e toccanti e grazie ovviamente a tutti voi carissime amiche carissimi amici che condividete con noi questo cammino che ci fate le domande che non ce le fate è lo stesso siete comunque qui con noi noi vi vediamo virtualmente vi vediamo ma sappiamo che ci siete col cuore con la mente e a noi questo qui basta e basta anche semplicemente poter condividere quello che abbiamo quello che abbiamo senza nulla in cambio non è quello il nostro scopo il nostro scopo è riuscire come diceva Pocasti Alessandro a dare o meglio a lasciare un messaggio veramente di pace di fratellanza di amore tra le persone tra tutti noi perché abbiamo bisogno veramente di pace di fratellanza e di amore esatto accorgo l'occasione per dire che ci sentiamo anche onorati o super onorati perché questo messaggio viene lasciato anche dal maestro la nostra guida a tutti quelli che ci ascoltano quelli che non ci ascoltano è un messaggio che depone energeticamente nell'etere e che praticamente solca la rete energetica di tutti i tempi quindi grazie alla nostra guida le sue parole Lidia perdonami ho trovato una domanda che mi è sfuggita al volo velocissima rispondiamo subito di Luisella che chiede se posso una seconda domanda certamente cosa pensate della meditazione guidata per curare le ferite del cuore bello bellissimo è una cosa molto bella molto bella ma come si dice tutto questo deve scivolare poi all'interno del cuore perché ovviamente come tutti sappiamo parte ogni cosa dalla mente poi dalla mente si mette una come si dice si crea un programma si dirama ecco energeticamente e tutto questo deve poi successivamente entrare all'interno del cuore perché è da lì che deve veramente partire questa consapevolezza questa volontà questa volontà di andare a risanare le ferite del cuore che sono veramente veramente tante quindi è cosa bella è cosa buona che meditiamo tutti impariamo tutti a meditare nel vero senso della parola della importanza della bellezza e dello scopo esatto nel cuore grazie infinita a tutti un abbraccione un abbraccione buona domenica buon fine settimana e buon inizio di settimana che sia il miglior lunedì di sempre per ognuno di noi e che Dio ci benedica tutti quanti esattamente così ciao 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 Ciao